Salvato dall'intervento di un agente che lo stava monitorando dalla sua postazione, un detenuto di 50 anni, Regino, ha tentato il suicidio nella sua cella della casa circondariale di Reggio Calabria. Lo ha fatto impiccandosi alle grate della finestra, il modo più diffuso all'interno delle carceri. Dopo averne sventati a decine nell'anno appena trascorso, questo è il primo caso del 2013 a cui la polizia penitenziaria del San Pietro deve far fronte. L'uomo, in cella da solo, come ciascun detenuto in osservazione psichiatrica, era da poco rientrato dalla comunità terapeutica esterna e, come ogni detenuto di questo genere, è soggetto a videosorveglianza 24 ore su 24, come previsto dalla legge. Ed è proprio attraverso i monitor di controllo che l'agente della penitenziaria in servizio si è accorto in tempo del tentativo del cinquantenne di compiere l'estremo gesto ed è intervenuto prontamente, evitando l'ennesima morte per suicidio nel pianeta carceri. Il detenuto Regino, in carcere già da tempo per reati da ricondurre alla droga, aveva per giunto scritto una lettera alla moglie, deciso quindi a farla finita. Impossibile sapere con certezza il motivo all'origine di questa estrema scelta? Ma tutto lascia immaginare che sia di carattere personale, familiare, non a caso il reparto di detenzione e quello psichiatrico non dovrebbero esserci dunque, secondo le fonti, altre motivazioni dietro il tentativo di impiccagione. Al contempo si ripresenta però l'occasione, per i massimi esponenti locali e nazionali del SAP di ribadire come sempre le cifre del pianeta carceri in grave difficoltà ormai da decenni. Affermano il segretario nazionale ed il segretario generale aggiunto del sindacato di polizia penitenziaria, rispettivamente Damiano Bellucci e Giovanni Battista Durante, che a Reggio Calabria sono ristretti 350 detenuti e vi operano 149 agenti. Molti sono impiegati in altri istituti, pur essendo in forza a Reggio Calabria, come ad esempio quelli distaccati da oltre dieci anni a Sant'Angelo dei Lombardi, in Campania, e non si comprende il motivo per cui il Dipartimento non li faccia rientrare nella propria sede.